Sanità, ostetricia e dermatologia, contratti non rinnovati, arrivano i chiarimenti del presidente della conferenza dei sindaci dell'Asl di Cambia. Banca Montepruno Michele Albanese racconta l'esperienza Milano e Padova, un viaggio tra passato e presente per raggiungere obiettivi difficili da sognare. Sala Consilina ha inaugurato lo studio in pronta per il benessere mentale e quindi fisico. A Sanza un corso sulle tecniche di caseificazione, 7 e 8 aprile. Caro Bolletti, aumenta anche il caffè al bar, rincaro del 12%. Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione in apertura alla sanità. La questione è legata al mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato per due ostetriche e la dottoressa in servizio presso l'ambulatorio di dermatologia del Luigi Curto di Polla. ha provocato una serie di preoccupazioni nel Vallo di Diano. Su quanto accaduto è intervenuto con due post sul profilo Facebook il sindaco di Tegiano nella sua veste di presidente della conferenza dei sindaci dell'Asl, Michele Di Cambia, che spiega come ci si sta attivando sia per ciò che riguarda le ostetriche e sia riferimento all'ambulatorio di dermatologia. Vediamo il servizio. Sanità nel Vallo di Diano e problemi relativi agli organici per ciò che riguarda ostetriche e ginecologia e l'ambulatorio di dermatologia. Arrivano ora i chiarimenti e le delucidazioni in riferimento all'attuale situazione dal sindaco di Tegiano e presidente della conferenza dei sindaci dell'Asl di Salerno, Michele Di Cambia. Sulla mancata conferma dei contratti per due ostetriche e sullo stop delle attività ambulatoriali di dermatologia sono intervenuti i sindacati ed in particolare la Cislef e Pivallo di Diano, che con due note stampe separate avevano evidenziato le difficoltà legate al servizio sanitario sul territorio, sia per ciò che riguardava la questione legata al mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato per due ostetriche in servizio presso l'ospedale Luigi Curto di Polla e sia per la chiusura dell'ambulatorio di dermatologia presso la struttura ospedaliera pollese e sempre per il mancato rinnovo del contratto al medico in servizio. A chiarire la situazione il presidente della conferenza dei sindaci dell'Asl, nonché sindaco di Tegiano, Michele Di Candia, che con un post spiega lo stato delle cose, evidenziando come sono già in atto azioni adottate insieme al consigliere regionale Corrado Matera per la riattivazione immediata dell'ambulatorio di dermatologia, ambulatorio di grande importanza dato che contava un numero di utenti che raggiungeva anche le 300 visite mensili, servendo pazienti provenienti da tutta la provincia di Salerno e non solo. Di Candia riferisce che insieme all'onorevole Corrado Matera è stata presentata apposita richiesta al direttore generale dell'Asl di Salerno Iervolino per l'adozione di misure idonee a garantire nel più breve tempo possibile la riattivazione del servizio ambulatoriale. Informo, scrive Michele Di Candia, che insieme all'onorevole Matera abbiamo tempestivamente chiesto all'Asl di attivare le procedure per la ripresa del servizio anche in ospedale, speriamo di risolvere per la prossima settimana. Inoltre chiarisce che al momento sono disponibili due dermatologi che continuano a garantire il servizio sul territorio. Per quanto riguarda invece la questione legata al mancato rinnovo dei contratti per due ostetriche del Vallo di Diano, assicura che dal 1 maggio prenderà servizio personale che sarà assunto con contratti a tempo indeterminato. Sto registrando, scrive Di Candia, molta agitazione relativamente alla sanità del Vallo di Diano. È opportuno precisare che l'Asl di Salerno ha utilizzato la graduatoria della Van Vitelli al fine di avere nel proprio organico ostetriche con contratto a tempo indeterminato. Sono stati quindi interrotti i contratti di lavoro interinali vigenti presso gli ospedali dell'Asl. Il presidio ospedaliero di Polla, assicura Di Candia, avrà in servizio dal 1 maggio personale con contratti a tempo indeterminato. Anche per l'ospedale di Polla sono state rappresentate all'Asl le esigenze del reparto. Bisogna lavorare con serietà, conclude Di Candia, evitando inutili agitazioni che creano soltanto danno al nostro ospedale. La scorsa settimana il direttore generale della BCC Montepruno, Michele Albanese, è stato a Milano dove ha ricevuto il premio di Milano Finanza come migliore banca della campagna. Inoltre Albanese è stato chiamato ad intervenire in una importantissima rete nazionale Canale Italia per la trasmissione di alto profilo economico Notizia Oggi Linea Sera. Una esperienza di grande valore è anche perché ha ufficializzato l'importanza della BCC Montepruno a livello nazionale. L'esperienza nel nord e l'accoglienza ricevuta hanno portato inevitabilmente il direttore albanese a ripercorrere il lungo viaggio della banca che quest'anno, il 14 settembre, celebra i 60 anni di vita. Anni di difficoltà, di decisioni assunte con timore ma coraggio, anni di successi e poi nuove paure, ma che hanno consolidato il valore della banca Montepruno ma soprattutto il suo essere famiglia ed il suo essere al servizio del territorio. Ascoltiamo una parte dell'intervista al direttore Michele Albanese. Ci siamo ritrovati a Milano ospiti di Milano e Finanza prestigioso quotidiano ovviamente economico e insieme a pochissime altre realtà bancarie italiane. Di fatti stamattina lo stesso quotidiano titolava i campioni del credito. Già essere definiti tali per noi è segno di orgoglio ma è un orgoglio che abbiamo voluto e ci piace condividere non solo con i nostri ragazzi i ragazzi che meritano tanto i ragazzi che hanno lavorato e continuano a lavorare quotidianamente con il nostro istituto ma non solo dal punto di vista materiale ma proprio come dicevi dal punto di vista morale perché sentono la banca propria la sentono viva la sentono una famiglia per cui vivono sicuramente una bellissima realtà. Questo ha fatto sì che una banca come dicevamo che viene da questi territori viene premiata come la migliore eccellenza della regione Campania quindi proprio il titolo migliore banca della regione Campania e oltretutto poi viene riconosciuta in un ambiente veramente bello. Sedersi al tavolo e condividere con le migliori banche d'Italia proprio i concetti di quelle modalità ed essere apprezzate perché poi quello che in effetti ci ha entusiasmato ancora di più a me il vicepresidente Ciniello è che la nostra banca è conosciuta la banca nostra è seguita cioè quanto ci presentavamo Banca Montepruna ah voi siete la Banca Montepruna che fate tante belle iniziative siete presenti sul territorio quindi noi non facciamo solo la banca non svolgiamo solo un ruolo legato all'economia in quanto tale ma svolgiamo un ruolo sociale svolgiamo un ruolo sul territorio svolgiamo un ruolo che ci viene riconosciuto e questo è bello ci fa essere differenti questo ci fa svolgere ancora una volta il nostro lavoro con impegno con amore verso un territorio ma soprattutto verso le persone soprattutto verso quelle persone a cui noi spesso dedichiamo anche i notevoli pensieri verso quelle persone che cerchiamo di aiutare cerchiamo di ascoltare questo è il segreto ulteriore soddisfazione essere intervistati da classe di editori non è da tutti i giorni e in più siamo stati ospiti a Padova di Canale Italia che è un canale italiano con oltre 6 milioni di spettatori in un talk show legato all'economia dove si è parlato di tanti argomenti beh vedere una banca del sud al nord non è da tutti i giorni in genere siamo abituati un po' al contrario cioè vedere le eccellenze del nord che vengono al sud e questo ci riempie di soddisfazione quindi orgogliosi di questi noi con la fusione di Fisciano passavamo da una fascia verde quindi verde classe 1 che è la migliore che esisteva già all'epoca in fascia 4 che era la peggiore e il nostro istituto adesso lo possiamo dire è stato sotto osservazione per un anno e mezzo con un programma di risanamento da parte di Casa Centrale Banca in una prospettiva di tre anni beh noi con impegno con soddisfazione possiamo dire che questi risultati li abbiamo superati nel giro di un anno quindi nel giro di un anno la nostra banca è ritornata a essere una delle migliori in assoluto se non la migliore anche in termini di solidità anche in termini di volumi e a tutti i livelli quindi quel colore verde e quel numero uno beh sono segni di grossa soddisfazione dimostrano che la nostra banca ha superato tutti gli ostacoli che doveva superare che gli viene riconosciuta sicuramente dall'esterno dalla rivista specializzato quanto abbiamo detto prima e ha ricevuto i premi ma è significativo perché quello è il risultato che viene riconosciuto dalla nostra capogruppo che ci colloca fra i migliori istituti della sua specie ricordando a tutti che siamo comunque la banca più grande di Casa Centrale Banca da sud in giù ricordando ancora una volta che quest'anno ci apprestiamo lo abbiamo già fatto nel mese di marzo ci siamo vicini superiamo il milione solo di raccolta raggiungiamo gli altri due milioni di masse amministrate con una squadra di 130 persone con 19 filiali beh è una bella realtà che ci fa vivere felici sereni tranquilli l'intervista integrale al direttore generale della banca Montepruno Michelo Albanese andrà in onda alle ore 18 e 30 e subito dopo il nostro TG della sera alle ore 20 e 30 potrete seguirla anche in diretta streaming sul nostro sito www.unotvweb.it cliccando sul live streaming e voltiamo pagina sono tante le attività che coinvolgono gli studenti del liceo pisacane dalle olimpiadi classiche passando per le olimpiadi di cyber security i giochi di anacleto fino ad arrivare ad una web radio sono tante le attività che stanno coinvolgendo in questi giorni i ragazzi del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula e che stanno mettendo in risalto le loro capacità in varie discipline nel fine settimana le due brillanti allunde Martina Graziano della Quinta A e Maria Zozzaro della Quarta Q hanno preso parte alla gara regionale delle olimpiadi classiche 2021-2022 sezione latino con la supervisione della professoressa Marianna Annunziata una competizione importante giunta alla sua decima edizione inserita nella programma annuale valorizzazione eccellenza del ministero dell'istruzione e volta a promuovere incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative delle lingue e delle civiltà classiche nei giorni scorsi è invece arrivata la bella notizia dell'accesso alla finale delle olimpiadi di cyber security Holy Cyber per i due studenti del Pisacane Anthony Gerardo Giuliano e Giuseppe Pasquariello della classe Quarta C indirizzo scienze applicate i due alunni arrivando rispettivamente 36esimo e 37esimo su 520 partecipanti provenienti da oltre 290 istituti nazionali si sono guadagnati l'accesso alla finale nazionale prevista a Torino dal 27 al 29 maggio altro importante appuntamento per i ragazzi del Pisacane sarà il 29 aprile pochi giorni fa infatti 20 studenti del biennio del liceo si sono cimentati con la prova laboratoriale dei giochi di Anacleto gara organizzata dall'associazione per l'insegnamento della fisica con lo scopo di far esplorare la fisica agli studenti stimolando il gusto per la scoperta con Anacleto in lab gli studenti si sono infatti messi alla prova con un esperimento guidato sulla triangolazione a cui hanno partecipato con grande entusiasmo serietà e passione il prossimo appuntamento è dunque il 29 aprile quando i ragazzi del Pisacane saranno impegnati con la prova Anacleto domande e risposte non solo prove classiche e scientifiche ma anche una web radio e tra le attività degli studenti un progetto PON che ha visto i ragazzi guidati dal docente Fasano cimentarsi nella realizzazione di tanti podcast sugli argomenti più disparati ascoltabili sulla piattaforma Spotify inaugurato ieri pomeriggio a Sala Consilina lo studio impronta diversi specialisti a collaborare per un nuovo approccio alla psicanalisi non è solo nella necessità che bisogna chiedere aiuto spiega la dottoressa Paola Perri ma ci si può rivolgere ad un professionista per qualsiasi situazione di disagio e difficoltà per garantire il benessere mentale e quindi fisico Inaugurato ieri pomeriggio a Sala Consilina lo studio impronta un nuovo approccio alla psicanalisi non è solo nella necessità che bisogna chiedere aiuto ma ci si può rivolgere ad un professionista anche quando il problema non è ancora emerso o comunque non è ancora tale una realtà che nasce soprattutto per scardinare gli stereotipi e i pregiudizi rispetto alla possibilità di rivolgersi ad uno specialista della salute mentale nello studio della dottoressa Paola Perri ci sono esperti e medici specialisti che collaborano per garantire l'intero percorso terapeutico dalla diagnosi al trattamento aperti ad accogliere chiunque si trovi in una situazione di disagio e difficoltà di qualsiasi natura dunque diverse figure professionali a collaborare e spazi ben studiati dall'arredo ai colori nulla è lasciato al caso perché chi arriva si senta proprio agio in un ambiente accogliente e possa godere degli effetti di rilassamento e benessere nel pomeriggio di ieri il taglio del nastro c'era la dottoressa Perri con il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone nasce oggi lo studio medico in pronta nasce per tutta la comunità per rivolgersi al centro in qualsiasi situazione di disagio e di difficoltà perché copriamo la richiesta dalla diagnosi al trattamento in ambito psichico dal momento che nel centro ci saranno diverse figure professionali i quali lo psicologo psicoterapeuta lo psichiatra il neurologo logopedista terapista occupazionale neuropsicomotricista analista del comportamento psicologo infantile quindi come è possibile capire il progetto nasce per soddisfare le richieste sia in ambito evolutivo che per gli adolescenti gli adulti le coppie le famiglie e per gli anziani nasce con l'intento non solo di essere uno studio specialistico in ambito psicologico ma soprattutto anche per aprire le sue porte per scardinare quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi rispetto anche alla possibilità di rivolgersi ad un professionista della salute mentale per questo presso il centro ci saranno diversi tipi di iniziative quali per esempio i sabati del benessere dove le persone avranno la possibilità di sperimentare e di imparare a prendere le tecniche di respirazione di rilassamento il training autogeno che sono tutte tecniche fondamentali per la nostra vita quotidiana per imparare a gestire l'ansia lo stress la respirazione è fondamentale sottolineare che presso lo studio ci sono degli spazi appunto attrezzati come la stanza della psicomotricità e per la terapia occupazionale dove i bambini potranno effettuare delle terapie specialistiche e dei protocolli di terapie ovviamente avanzate la nascita dell'equip e quindi la collaborazione tra le diverse figure perché presso lo studio ci sarà il neuropsichiatra infantile che collaborerà quindi con la psicologa infantile la logopedista la psicomotricista è fondamentale pensare alla possibilità di lavorare in equip anche e soprattutto in ambito privato quindi il centro vede la possibilità di realizzarsi a livelli professionali di collaborazione e di soprattutto protocolli rivolti alla persona per il proprio benessere sia da un punto di vista psichico che fisico un macabro manifesto funebre contro il vescovo della diocesi Nocera Sarno originario di sala consiglina Monsignor Giuseppe Giudice è apparso nella notte tra sabato e domenica dopo il suo stop alle tradizionali processioni religiose nel periodo di Pasqua Monsignor Giuseppe Giudice pseudo vescovo di Nocera Inferiore Sarno si legge ha tragicamente con un decreto inutile ucciso e oltraggiato le nostre feste patronali ne danno la triste notizia le bande musicali i fuochisti gli ambulanti i giostrai le ditte delle luminarie e molti commercianti che ancora piangono un periodo buio per la crisi legata al covid ed ora continuano a non lavorare per una scelta disonesta ed ingiusta un grave lutto ha colpito il nostro agro ma uniti vinceremo contro il vescovo unanime è stato il coro di condanna da parte dei sintaci intanto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per provare a risalire responsabili della macabra fissione l'ipotesi di reato è vilipendio di un ministro del culto ed ora voltiamo pagina nel periodo dei rincari sale anche il prezzo del caffè al bar che registra un aumento del 12% vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio il caro bollette fa impazzire i listini del caffè consumato al bar lo denuncia il codacons che ha realizzato uno studio sull'andamento dei prezzi medi della classica tazzina di espresso nelle varie città italiane per verificare come il caro bollette abbia influito sui listini praticati al pubblico in base agli ultimi dati ufficiali del mese il prezzo record dell'espresso si raggiunge a Bolzano dove un caffè consumato al banco del bar costa in media 1,23 euro analizza il codacons al secondo posto in classifica con una media di 1,20 euro si piazzano Rovigo e Ravenna seguono ad 1,19 euro Vicenza Trento e Ferrara ben 25 città registrano nel nostro paese un prezzo medio del caffè superiore a 1,10 euro e così mentre l'istat registra a marzo un'inflazione annua per il comparto ristoranti e bar pari a più 3,8% nel confronto tra il periodo pre-incari delle bollette febbraio 2020 si scopre che l'aumento più alto dei listini al pubblico si è registrato a Pescara dove il prezzo medio dell'espresso al bar è passato da 1 euro ad 1,12 euro con un rincaro del più 12% una situazione destinata ad espandersi a macchia d'olio in tutto il paese nelle prossime settimane ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità tra poco ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale a Sanza un corso di formazione teorico e pratico sulle tecniche di caseificazione si terrà giovedì 7 venerdì 8 aprile diversi gli argomenti dagli obblighi di legge alle tecniche di lavorazione è gratuito e verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione insieme al materiale didattico a Sanza un corso di formazione sulle tecniche di caseificazione si terrà giovedì 7 venerdì 8 aprile è promosso dalla regione Campania da Ara Campania e dal comune verterà su gli obblighi di legge il ciclo di produzione del latte le norme di igiene le reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla conservazione le tecnologie sulla fabbricazione delle diverse tipologie di formaggi tecniche di lavorazione e di manipolazione dei prodotti caseari smaltimento dei residui possibilità di produzione dei prodotti lattiero-caseari in locali di civili abitazioni la partecipazione al corso è gratuita verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione e anche materiale didattico sarà tenuto da Gianni Ruggiero responsabile dell'ufficio zootecnia della regione Campania da Davide Micozzi e Augusto Calvi rispettivamente presidente e direttore di Ara Campania da Katia Rossi esperta di produzione animali da Anna Pagano biologa e da Donato Nicastro esperto casaro prima ci saranno gli interventi di saluto del sindaco di Sanza Vittorio Esposito e l'introduzione al corso da parte del vice sindaco Antonio Lettieri il corso si terrà nelle due giornate di giovedì 7 venerdì 8 aprile dalle ore 9.30 alle 13.30 in aula presso l'aula consigliare del comune di Sanza e dalle 14.30 in poi presso il laboratorio tecnico del caseificio mediterraneo a Sanza per la parte pratica Nuovo appuntamento culturale a Sala Consilina presso il Mondadori Bookstore di Antonio Lullo Nell'ambito degli appuntamenti culturali per promuovere il valore della lettura Antonio Lullo ospiterà giovedì 7 aprile Don Francesco Cristoforo per la presentazione del libro Lo sguardo di Gesù il servizio Una raccolta di storie con e senza volti che ripercorrono vicende misericordiose imponendo al lettore un'autovalutazione del suo comportamento davanti alla sofferenza Con questo intendo Don Francesco Cristoforo ha ideato il suo libro dal titolo Lo sguardo di Gesù che giovedì prossimo 7 aprile sarà presentato al pubblico in un nuovo evento letterario proposto da Mondadori Bookstore di Sala Consilina Nell'ambito degli eventi letterari Antonio Lullo responsabile della libreria Mondadori propone l'appuntamento con l'autore con lo scopo di presentare le opere non solo sulla base dei riassunti ma cercando di far capire anche le emozioni e gli obiettivi che lo scrittore ha voluto riversare nelle pagine del suo libro Ancora una volta il Mondadori Bookstore porta a Sala Consilina l'autore di un volume che è possibile acquistare presso la libreria per far conoscere meglio il contenuto dell'opera alle ore 18.30 di giovedì 7 aprile Don Francesco Cristoforo presenterà in anteprima il suo libro dal titolo Lo sguardo di Gesù un libro che ripercorrendo le pagine del Vangelo spinge il lettore ad interrogarsi su quale sarebbe stato il suo comportamento di fronte a situazioni come il trovarsi dinanzi ad una peccatrice colta in flagrante ad ulterio e quindi a chiedersi se avrebbe lanciato oppure no la pietra così come a chiedersi quale sarebbe il suo comportamento trovandosi dinanzi a un mendicante cieco un libro che racconta ma che impone la riflessione attraverso storie che non sempre raccontano le vicende di persone con un volto insieme a Don Domenico Sant'Angelo l'autore del libro avvierà un dialogo sul volume la cui prefazione è stata affidata al cardinale Angelo Comastri Sabato sera alla Rechice è stato il match di campionato Salernitana Torino l'unico precedente risale al 1947-1948 i club il comune sabato mattina erano insieme davanti alla lapide che ricorda gli invincibili il 4 maggio del 1949 di rientro da una gara amichevole a Lisbona l'aereo che trasportava la squadra ed alcuni dirigenti e giornalisti si schiantò sulla collina di Superga a poche ore dalla partita c'è stata la cerimonia di commemorazione in ricordo del grande Torino si è svolta sotto la lapide eretta il 24 maggio del 1949 vediamo Salerno rivive il mito del grande Torino un simbolo dell'Italia che esce fuori dalla seconda guerra mondiale che unisce il mito del giro d'Italia vinta in volata da Fausto Coppi al calcio a pochi giorni dall'anniversario del 17 aprile del 1948 quando Salerno visse uno dei giorni più importanti della sua storia sportiva allo stadio Donato Vestuti progettato dall'ingegnere Camillo Guerra è originariamente chiamato Campo Littorio solo dopo la seconda guerra mondiale nel 1952 denominato stadio comunale si è svolta una cerimonia sotto la lapide retta il 24 maggio nel 1949 su iniziativa del consigliere comunale Gennaro Avella presidente della quarta commissione sport politiche giovanili ed innovazioni il 17 aprile del 1948 davanti a 14.000 spettatori entusiasti ed estasiati la squadra di Gipoviani maglia gialla per dovere di ospitalità ospitò al comunale il grande Torino e i Granata del Sud passarono anche in vantaggio prima che la squadra ospite si scatenasse andando a segno quattro volte quel Torino era in pratica la nazionale italiana che avrebbe vinto ancora numerosi titoli se la sorte non avesse trasformato la sua incredibile storia in leggenda immortale il 4 maggio del 1949 di rientro da una gara amichevole a Lisbona l'aereo che trasportava la squadra ed alcuni dirigenti e giornalisti si schiantò sulla collina di Superga quando ormai era un passo da casa il presidente della quarta commissione sport Rino Avella ha ospitato il dirigente del Toro Alberto Barile accompagnato dall'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan dalla responsabile comunicazione Mare Andrea presente anche l'onorevole Piero De Luca e la giornalista del quotidiano Cronache Olga Chieffi E per oggi è davvero tutto grazie per essere stati con noi Grazie a tutti